...vacanza a Camaiube, che mi faccio una volta di mano, quindi mi ha convinto di venire alla casa di Andrea, Veronica. E immediatamente ho trovato una cosa che c'era, erano completamente aperti a tutte le cose che volevo dire. Non solamente quello, però io mi ricordo, cioè che ho sempre sul mio cellulare, Andrea che cominciava subito a raccontare delle cose su come lui faceva un percorso in una stanza senza dare fastidio a delle persone, cioè che senza spaventare le persone. E questa è una cosa che io mi sentivo veramente bene nella presenza di queste persone. E di più, era una cosa importante per me, però io mi sentivo libero e con la fiducia di loro di entrare nella sua loro vita, di raccontare quel percorso molto emozionante, però non sentimentale, cioè una differenza. E di entrare con un'apertura, con una libertà che mi permette di fare un film, che ha il livello, che ha il valore che cercavo, che mi hanno dato, quello che non mi spiego molto bene, però di darci...